Mi sono tatuato a Los Angeles, raga era così vicino Qui dovevo firmare questo foltra ma non so leggere e quindi l'ha fatto mio zio Questo sarà lo studio dove mi tautorò e avevo troppa paura di ripensarci Poi è arrivato mio zio e mi ha detto Sì, è da fare Il posto dove lo faremo sarà proprio qui dietro Qui mi stavano portando foltra e quest'uomo mi ha detto Ora non puoi più tornare indietro Io che intanto scrivo al mio amico datotore in Italia Qui era pronto il tattoo, poi questo ragazzo mi ha portato in questa strana sedia E poi iniziamo Mi ha depilato, mi ha attaccato una cosa strana e infine lo stencil E finalmente inizio Non è ancora partito Dopo tantissime sofferenze, ha affrontato lotte Ecco qui il mio tattoo Vai su Instagram, l'ho messo nelle storie